secondo le indiscrezioni divulgate da chi magazine maria de filippi non ha alcuna intenzione di dare spazio agli ex gfni temptation island dopo un anno sabbatico tornerà ad allietare il pubblico di canale 5 la prossima estate la messa in onda è prevista tra giugno e luglio al timone del programma ritroveremo filippo bisciglia nei giorni scorsi alcuni rumors hanno raccontato che nel cast del reality show avrebbero potuto entrare i donnalisi altrimenti detto antonella fiordelisi ed edoardo donna maria e gli oriele cioè daniele dal molo e oriana marzoli trattasi delle due coppie partorite dal grande fratello vip 7 qualche presunto ben informato ha persino sostenuto che ci siano stati dei contatti tra gli ex gfni e la produzione della trasmissione delle tentazioni le cose però non starebbero affatto così maria de filippi avrebbe chiuso le porte sia agli oriele sia i donnalisi non per antipatia ma per il semplice fatto che avrebbe deciso di puntare solo su coppie non famose i donnalisi non tentano maria de filippi riaccende i falò di temptation island ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality ha reso noto chi magazine e e e e e e e e